Processo Gallo d'Oro, la sentenza, quattro condanni e una soluzione, torna libero Calogero Monica dopo diversi anni ai domiciliari. Processo Bad Caregiver, due condanni in appello, sconto di pena per un ex operatore di una casa di riposo. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un protocollo di intesa tra Comune di Caltanissetta e Guardia di Finanza. Il Partito Democratico di San Cataldo sul Policlinico a Caltanissetta, la nota dei consiglieri comunali Francesca Cammarata e Marco Imera. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando del processo Gallo d'Oro, la sentenza, quattro condanni e una soluzione, torna libero Calogero Modica dopo diversi anni ai domiciliari. Dettagli nel servizio. Sono quattro le condanne che ha visto alla sbarra la mafia del ballone. La prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, presieduta dal giudice Francesco D'Arrigo, ha disposto quattro condanne e una soluzione nel processo iniziato in seguito alla maxinchiesta del gennaio di quattro anni fa, denominata Gallo d'Oro. L'attività di indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ed eseguita dai carabinieri del ROS, si è focalizzata sulla famiglia mafiosa di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Secondo gli inquirenti, Calogero Modica sarebbe ritenuto il capo mafia di Campofranco, anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Maurizio Adigati, Ciro Vara e Maurizio Currabba. L'ottantenne è stato condannato a sei anni. È stata accolta quindi la tesi della difesa che ha permesso all'imputato di essere prosciolto dalle principali contestazioni che lo hanno visto imputato come capo e promotore dell'organizzazione, riconosciuto soltanto come affiliato, banda armata e l'impiego di proventi illeciti. Per questa ragione l'accusa aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 18 anni di reclusione. L'uomo, da quattro anni domiciliari, è stato scarcerato. Nello stesso processo sono stati imputati anche due agrigentini, accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e alla cessione di droga. Salvatore Puma, di Racalmuto, è stato condannato a sei anni di reclusione e 26 mila euro di multa, mentre è stato assolto, per non aver commesso il fatto, Carmelo Conte, originario di Casteltermini. Il Tribunale ha disposto inoltre la condanna nei confronti di Salvuccio Favata, di Mussomeli, a otto anni e due mesi di reclusione, e Giuseppe Gioacchino, di Carlo, di Campofranco, a sei anni e sei mesi. La squadra mobile ha tratto in arresto un 53enne, raggiunto da un provvedimento di esecuzione di pene in regime di detenzione domiciliare messo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per il reato di evasione. L'uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare otto mesi di reclusione. E adesso passiamo al processo Bad Caregiver. Due condanne in appello. Sentiamo. È arrivata la riduzione di pena per Vincenzo Biundo, 55enne di Gela, dai precedenti undici anni e due mesi di reclusione, a sette anni, due mesi e venti giorni. Nessuna diminuzione invece per Rosa Anna Milazzo, di Serra di Falco, a carico della quale è rimasta inalterata la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. La Procura Generale ha chiesto per entrambi la conferma della sentenza precedente di condanna. I due sono stati coinvolti nell'inchiesta dei carabinieri, denominata Bad Caregiver, che nel luglio di due anni fa ha permesso di scoprire una casa di riposo lager a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, dalla quale sono scattate cinque misure cautelari. Quindi la prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Giovanni Battista Tona, ha diminuito la condanna nei confronti di Biundo, rispetto a quella emanata nel processo di primo grado. L'uomo è stato processato con l'accusa di abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione infermieristica e violenza sessuale aggravata, mentre Milazzo è finita sotto processo per maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiera. Entrambi erano dipendenti della cooperativa sociale azzurra, da cui dipendono le due comunità alloggio dove si sarebbero consumati maltrattamenti. In quel luogo i nove anziani ospiti affetti da disabilità psichiche sarebbero stati bistrattati, malnutriti e picchiati. Piano Nazionale di Riprese e Resilienze, il Comune di Caltanissetta e la Guardia di Finanza stipulano un protocollo di intesa. I dettagli nel servizio. Siglato questa mattina nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, il protocollo di intesa della durata di tre anni, con possibilità di proroga relative ai rapporti di collaborazione tra il Comune Nisseno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Ad apporre la firma sul documento il primo cittadino nisseno e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il protocollo punta rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive, si precisa, degli interessi economici e finanziari pubblici connesse alle misure di sostegno e o di incentivo di competenza del Comune di Caltanissetta, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Guardia di Finanza ci aiuterà a controllare quello che succede perché i flussi finanziari saranno importanti. Noi parliamo già soltanto del piano di rigenerazione nazionale, sono 20 milioni di euro e poi successivamente tutta una serie di finanziamenti che arrivano, per esempio il Polo di Xirbi da solo sono 9 milioni, per cui è chiaro che i flussi finanziari sulle opere pubbliche vanno assolutamente controllati con attenzione. Questo che farà la Guardia di Finanza insieme a noi è anche un preludio a ciò che farà anche la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti di suo già sta iniziando a controllare i propri flussi finanziari sulle opere pubbliche, per cui per noi è fondamentale che ciò avvenga per la sicurezza di tutti quanti. Non ci sarà solo uno scambio di informazioni, ma si prevede anche un'attività formativa. Lo strumento aggiuntivo rispetto a quella relazione che il corpo già svolge è quello della sinergia, cioè il fare le cose insieme, non si è né l'uno contro l'altro né su versanti contrapposti, ma chiaramente si è tutti dalla stessa parte. E l'aspetto secondo me ulteriore, perché pensiamo sempre al controllo, la Guardia di Finanza rappresenta sempre un po' l'entità che controlla, che verifica. Qui c'è un ulteriore componente che è quello anche della formazione. Formazione significa insieme verificare quali sono le modalità migliori per portare avanti l'azione amministrativa. E questo io credo che sia un valore aggiunto fondamentale di questo protocollo rispetto al mero scambio di dati o al fatto che il Comune possa, come logico e come deve essere, dare degli alert rispetto a situazioni dove richiede una chiarezza. Quindi questo andare un po' su un progetto così importante per la provincia, per la città e per tutto il Paese, come il PNRR. Credo che sia il vero valore aggiunto di tutto questo protocollo. Andare insieme, andare sulla stessa linea e evitare che qualcuno possa pensare che ci siano debolezze istituzionali che consentano di trovare spazi che non ci sono assolutamente. Lungo la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 Palermo-Catania sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della Scarpata, ubicato al chilometro 140-300 tra gli svincoli di Agira e di Taino. Pertanto viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal chilometro 139-200 al chilometro 141-100 per 1,9 chilometri con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate, si legge in una nota dell'ANAS diffusa nelle ultime ore. La riapertura odierna sommata a quella dei Viedotti, Simeto, Alfio, Rossi e Fichera avvenute dall'inizio dell'anno riduce da 3900 a 28800, quindi 10,3 chilometri, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull'intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 chilometri. E adesso torniamo a parlare del Policlinico a Caltanissette, interviene anche il Partito Democratico di San Cataldo. Durante il Consiglio Comunale del 22 febbraio, la consigliera Francesca Cammarata, a nome anche del consigliere Marco Imera, è intervenuta sul tema della sanità territoriale e del Policlinico Universitario, a nome del gruppo consigliare del Partito Democratico. Dopo l'emandamento alla legge di stabilità approvato in ARS che recita l'assessore regionale della salute d'intesa con l'assessore regionale dell'istruzione e la formazione professionale e con le università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico Universitario della Regione. È necessario scegliere il luogo dove questo Policlinico avrà sede e questa scelta ricadrà tra due città, Enna e Caltanissetta. Noi crediamo che questa sia l'ultima possibilità di rinascita per la nostra provincia, l'ultimo strumento per riprendere l'ambizioso progetto del centro di servizi avviato molti anni fa. Oggi pensare alla realizzazione di un Policlinico del centro Sicilia e in altre città che non siano quelle di Caltanissetta significerebbe abbandonare l'ospedale Sant'Elia, da tempo già dea di secondo livello ma negli ultimi anni depotenziato, eliminando reparti a favore di province vicine e di privati. L'occasione che abbiamo oggi è unica. Le cittadine e i cittadini lo hanno già capito, hanno sottoscritto la petizione online e si sono aggregati al Comitato per il Policlinico a Caltanissetta. Il Partito Democratico di San Cataldo si unisce a questa battaglia e invitiamo tutti gli altri partiti e movimenti civici a fare lo stesso, ma soprattutto pretendiamo una seria lotta da parte di coloro che rappresentano la nostra provincia a Lars. Impegniamo anche questa amministrazione comunale ad unirsi alla battaglia cittadina che si terrà il 27 febbraio proprio sul tema della sanità pubblica, conclude la consigliera Francesca Cammarata. Cambiamo ancora una volta argomento, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, approvati i nuovi progetti per la videosorveglianza in diversi comuni del Nisseno. Non si arresta l'attenzione alla sicurezza da parte delle istituzioni nissene. Mercoledì si è tenuta a una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici delle forze dell'Ordine, della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato e con i sindaci dei comuni della provincia, fra i quali Caltanissetta, Mazzarino, Riesi, Villalba e Vallelunga, nel corso della quale sono stati analizzati i progetti di videosorveglianza. In apertura il Prefetto ha richiamato l'importanza dell'iniziativa che mira a dare un impulso alla realizzazione di strategie congiunte tra i diversi livelli di governo per il contrasto dei fenomeni criminali e la promozione del rispetto del decoro urbano tramite l'installazione di impianti di videosorveglianza, quali strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. La riunione di ieri ha dato seguito alla stipula con i comuni di Villalba, Mazzarino e Vallelunga e Pratameno dei Patti per la Sicurezza Urbana, avvenuta martedì scorso. Sono nove comuni della provincia di Caltanissetta che hanno presentato le istanze per l'ammissione ai finanziamenti che prevedono l'installazione nei rispettivi territori di un impianto di videosorveglianza o, in alcuni casi, che ampliano quelli già esistenti. Nel corso della riunione, inoltre, le progettualità sono state illustrate ai componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica, esteso per la circostanza alla presenza del dirigente della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato di Palermo, che ha formulato un parere tecnico sulle stesse. Al termine dell'incontro, il prefetto ha evidenziato come la presenza di un efficiente sistema di sorveglianza a presidio del controllo dei centri urbani, soprattutto di quelli che attualmente ne sono sprovvisti, contribuisca a realizzare un sensibile rafforzamento della generale azione a carattere preventivo e di repressione dei reati. Regione, attenzioni puntate sugli attraversamenti impropri dei corsi d'acqua, sopralluogo anche nella zona del torrente Ficuzza, tra quelli che sono andati recentemente, che ha causato danni a diverse infrastrutture agricole del Gelese. Un paio di giorni fa, la strada statale 115 sud-occidentale Sicula è stata chiusa al traffico a Gela, per lo straripamento del torrente Ficuzza che ha causato danni alle colture e alle infrastrutture agricole. Oggi una task force ha preso il via per mappare ed eliminare le piste e i guadi impropri esistenti all'interno degli alvei dei corsi d'acqua dell'isola. Attorno allo stesso tavolo il segretario generale del LEND Leonardo Santoro ha riunito le prefetture e la protezione civile, i rappresentanti degli uffici del Genio Civile e della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e l'ANGI Sicilia. Un provvedimento che esegue il vertice convocato martedì scorso a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione Renato Schifani, per tracciare entro dieci giorni una mappa degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti nell'isola e avviare un piano straordinario di manutenzione. Spesso si tratta di strutture precarie e non autorizzate, la cui realizzazione costituisce il reato penale soprattutto perché nella maggior parte dei casi concorre a causare maggiori danni a seguito dell'ostruzione dell'alveo fluviale, causando nella fuoriuscita degli argini in conseguenza di eventi meteorici specie se intensi. In questa fase, afferma il segretario dell'autorità di Bacino Leonardo Santoro, sarà fondamentale il ruolo dei comuni per individuare con certezza la collocazione del soggetto responsabile, a cui poi intimarne la rimozione in danno. L'attività avviata oggi è fondamentale anche per accrescere la consapevolezza del rischio nei confronti della popolazione che ignara viene indotta ad attraversare questi guadi su cui sono collocate illegittimamente strade interpoderali, comunali, provinciali o statali. Anche la linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela, Canicattia-Grigento-Caltanissette, è stata inserita nella proposta di regolamento sugli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporti su iniziativa del PD e approvato in Commissione Trasporti alla Camera. E quanto fa sapere il capogruppo del PD in Commissione Trasporti della Camera e il segretario regionale del PD Sicilia, Antony Barbagallo, a proposito del testo, approvato in Commissione Trasporti sul regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che favorisce l'integrazione dei paesi europei e che prevede, tra le altre cose, la creazione di una rete articolata su due livelli per lo sviluppo della rete internazionale. E adesso parliamo invece delle primarie del PD per l'elezione del segretario nazionale. Dopo il voto dei circoli, domenica 26, dalle 8 alle 20, si voterà in oltre 246 punti, il dato in continuo aggiornamento sparsi su tutto il territorio della Sicilia. Nella federazione provinciale di Agrigento sono 34, mentre in quella di Caltanissetta 21. Così in Sicilia è partita l'organizzazione del PD per eleggere il nuovo segretario nazionale tra Ellie Schlein e Stefano Bonaccini. La lista dei seggi è in continuo e costante aggiornamento. Per individuare il seggio più vicino, è possibile consultare il sito www.trovaseggio.primariepd2023.it. Le primarie sono un esercizio di democrazia fondamentale e una vera e propria festa per il Partito Democratico, afferma il segretario regionale Anthony Barbagallo. Sento il bisogno di rivolgere un ringraziamento in primis alla Commissione regionale per il congresso e al suo presidente Giovanni Bruno, a tutti i volontari, i militanti, gli iscritti, ai segretari delle federazioni provinciali e ai segretari dei circoli per il grande impegno profuso senza il quale tutto questo non sarebbe fattibile. Potranno votare anche i non iscritti versando la quota di 2 euro. Il voto online è stato limitato ai malati, ai disabili e ai residenti in località la cui distanza dei seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il congresso, nonché alle persone residenti e o domiciliate all'estero. Per votare occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale. Cambiamo ancora una volta argomento, reddito minimo di inserimento, l'aggiornamento dell'elenco dei fruitori utilizzati nei cantieri di servizi. Inviata dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative una nota ai comuni destinatari del reddito minimo di inserimento delle province di Caltanissetta ed Enna. Il Dipartimento deve procedere all'aggiornamento dell'elenco alfabetico ad esaurimento dei soggetti già fruitori del reddito minimo di inserimento utilizzati, si legge nel documento, nei cantieri di servizi di cui è l'articolo 1 della legge regionale 5 del 2005. Pertanto viene richiesta ai comuni la conferma o meno dei nominativi già presenti nell'elenco alfabetico pubblicato nell'agosto del 2021 e l'invio dell'elenco dei beneficiari impegnati nei cantieri. Nel caso dei sostituti bisognerà comunicare il motivo della sostituzione, indicando anche se è provvisoria o definitiva. Dopodiché verrà redatto e pubblicato il nuovo elenco. Sono passati infatti quasi 20 anni dall'istituzione dei cantieri di servizio destinando delle somme di finanziamento ottenute dai comuni dove vengono avviati gli stessi cantieri, individuando dei programmi di lavoro. Per cantieri di servizio si precisa infatti nella legge del 19 maggio del 2005, numero 5, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione siciliana numero 22 del 21 maggio dello stesso anno, si intende un programma di lavoro temporalmente definito, utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali, in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste, o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi, per i quali, si legge ancora, l'organizzazione amministrativa del Comune non si è adeguata. Intitolata alla professoressa Rosaria Martorana, l'aula CIC dell'Istituto Volta, ovvero lo spazio riservato al Centro di Informazione e Consulenza Psicologica, curato dalla psicoterapeuta Gloria Messina. Alla cerimonia hanno partecipato il dirigente scolastico Vito Parisi, docenti e studenti. Nella sala Biblioteca del Volta, Parisi ha ricordato Rosaria Martorana, sottolineandone la passione per le persone e l'incontenibile dedizione per il prossimo. La professoressa Franca Amico ha recitato un'emozionante poesia con cui ha commemorato la collega scomparsa. E adesso parliamo del prossimo appuntamento per i medici, sabato 25 febbraio, al Consorzio Universitario Nisseno, un evento dal titolo La Pillola, non solo, contraccezione. Sarà un fine settimana pieno di appuntamenti per i medici del territorio Nisseno. Sabato prossimo, 25 febbraio, a partire dalle 8.30, l'aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta ospiterà un incontro dal titolo La Pillola, non solo, contraccezione. Un corso che si rivolge soprattutto ai medici di famiglia, ginecologi, endocrinologi, dermatologi, ematologi e infettivologi. Un appuntamento dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Caltanissetta che rientra nel progetto Malattie Sessualmente Trasmissibili, Sicilia-Malta, del distretto Rotary 21-10. Ad introdurre i lavori il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi odontoiatri di Caltanissetta Giovanni Di Polito e il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta Fabio Tornatore, ma si prevede anche l'intervento dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo e del Governatore del distretto Rotary 21-10 Sicilia-Malta Orazio Agro. Durante l'incontro saranno presentate le relazioni di numerosi esperti, tra i quali il nisseno Giuseppe Giannone, nonché Presidente della Commissione Distrettuale Rotariana Sicilia-Malta sulle malattie sessualmente trasmesse. Non mancheranno momenti dedicati al confronto con le persone presenti. È morto all'età di 54 anni Michele Giannone, pasticcere noto e apprezzato in città. Insieme ad altri colleghi diversi mesi fa aveva contribuito alla realizzazione del cannolo dei record, il più lungo del mondo. I funerali si svolgeranno sabato alle 10.30 in cattedrale. Parte Red Line, il progetto del gruppo Consigliare le Spighe per promuovere culture e tradizioni a San Cataldo. Chiara Fulco tracceremo un percorso turistico per collegare le zone più suggestive della città. Si chiama Red Line e ha l'obiettivo di promuovere le tradizioni e la cultura di San Cataldo. L'iniziativa, pensata dal gruppo Consigliare le Spighe, è già in cantiere. San Cataldo si prepara a diventare un crocevia turistico capace di riscoprire le peculiarità e la bellezza di una città che si è sempre distinta per il proprio patrimonio culturale, afferma la consigliera Chiara Fulco, prima promotrice dell'ambizioso progetto. Mediando il tour Fai da te continua la Fulco, i cittadini e i turisti potranno ammirare la città e godere delle ricche tradizioni che la caratterizzano. Una vera e propria linea rossa, quella che potranno seguire i visitatori nel loro percorso di conoscenza della realtà sangataldese. La cosiddetta Red Line potrà infatti rappresentare una preziosa occasione di rilancio low cost dell'intero territorio. Un territorio che troppo a lungo non è riuscito a esprimere in modo efficace la propria ricchezza culturale. L'idea elaborata dai consiglieri delle Spighe è quella di tracciare lungo i marciapieri cittadini una linea rossa permanente, per tracciare appunto un percorso turistico di collegamento delle zone più suggestive della città. Come spiega ancora la consigliera Fulco, tra i diversi punti di interesse indicati e tra loro connessi mediando un filo rosso, i visitatori potranno muoversi autonomamente, sentendosi nello stesso tempo accolti e indirettamente guidati lungo un tragitto che diventa passo dopo passo fonte sicura di nuova conoscenza e di scoperte entusiasmanti. Così conclude la consigliera Fulco. Non mancheranno spiegazioni audiovisive, materiali multimediali e indicazioni relative ad eventi e servizi. Credo che tale percorso potrà costituire un profondo punto di incontro tra passato e presente. Camminare lungo la linea rossa delle origini significa costruire un futuro nuovo per San Gataldo, ricco di prospettive in continuo divenire. Primo appuntamento per il 2023 dell'iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta domenica 26 febbraio con la guida del professor Enzo Falzone, visita di Palazzo Lanzirotti e delle vie che lo circondano. L'appuntamento è alle ore 10 in Piazza Garibaldi, nelle vicinanze della Fontana del Tritone. Durante l'incontro verrà illustrato il programma di tutto l'anno e verranno rese note le altre iniziative del Cral Giustizia. Torniamo a socializzare in Viale della Regione. L'iniziativa del Comitato Primavera-Nissena parla Rocco Ballacchino. Nella giornata del 21 febbraio si è insediato il Comitato Promotore dell'iniziativa sociale Primavera-Nissena, che si svolgerà a partire dal 20 marzo in Viale della Regione. Il Comitato nasce da un'esigenza di aggregazione sociale attraverso un rapporto umano tra diverse realtà sociali presente sul territorio locale. Rapporto ormai scemato anche a caso di un eccessivo uso dei social che hanno di fatto creato un isolamento sociale, relegando l'essere umano dietro lo schermo di un pc o un cellulare. L'iniziativa mira a facilitare la risocializzazione anche attraverso iniziative collaterali, che possono contribuire in sinergia al raggiungimento dell'obiettivo. L'iniziativa nasce da un'esigenza, l'esigenza di spostare l'attenzione da una socializzazione ormai fittizia che è sui social e che di fatto ha creato un isolamento tra tutti, in particolare anche tra i giovani, molto tra i giovani, a riportare di nuovo tutto su un piano rettamente umano, quindi a coinvolgere la gente di nuovo a rincontrarsi, a socializzare umanamente, quindi a guardarsi negli occhi, a stringersi le mani, a scambiarsi le opinioni, ad apprezzare il valore di un sorriso, di un abbraccio. Questa iniziativa di cui io ho soltanto dato l'input è stata accolta con favore da un numero importante in questo momento di associazioni culturali, sportive, teatrali che hanno aderito all'iniziativa e sono solo uno dei tanti. Infatti abbiamo formato questo comitato promotore proprio per divulgare l'iniziativa in maniera unitaria, quindi come gruppo e non come singola persona. Nell'iniziativa sono coinvolte diverse chiese che girano attorno al Vialla Regione che sarà il luogo d'incontro dell'iniziativa stessa. L'iniziativa è proiettata al 20 di marzo che è il primo giorno di primavera, per cui simbolicamente facciamo partire questa iniziativa come primavera nissena, proprio per dare il senso di risveglio anche dal punto di vista della società tagliata sul territorio, quindi è riportata sul piano pratico. La delegazione ACI Sport Sicilia ha pianificato con la scuola federale ACI Sport Michele Alboreto diretta da Raffaele e Gianmaria la prima data per le abilitazioni e il passaggio di licenza. A Percusa, dalle 9.30 di sabato 18 marzo 2023, i candidati affiancati dagli istruttori federali potranno sostenere i test previsti per l'abilitazione e per il passaggio di licenza sportiva. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì sull'Italia saremo ancora interessati da correnti umide occidentali legate a questa circolazione depressionaria che insiste sulla penisola iberica, che di fatto porta della nuvolosità ma scarse piogge, giusto qualche isolata piovigine su parte del nord Italia. Vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità che mostra ancora una volta le regioni settentrionali e anche parte del centro coinvolte dalle nuvole che invece non interessano prevalentemente il sud dove qui ci saranno maggiori spazi soleggiati. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di venerdì. Avremo una giornata molto nuvolosa al centro nord con qualche goccia di pioggia sulla Liguria, parte della Val Padana, ma si tratta essenzialmente di fenomeni molto deboli. Maggiori spazi soleggiati sulle regioni meridionali e le isole maggiori dove qui le temperature sono anche ben al di sopra delle medie, punte attese anche fino a 20 gradi tra Palermo e Cagliari. Tutti i dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizio notturno. Pantano. Via Domminzoni.